Volevo chiedere quali garanzie agli consumatori, consumatrici, che questo trattamento è veramente definitivo. La parola definitiva è, direi, impropria, perché di definitivo il corpo umano lo insegna, sappiamo tutti, che non si può dire, ma la definizione giusta è una definizione permanente sui peli espressi, vuol dire quelli che in quel momento la consumatrice o il consumatore ha, in base alla loro età, alla situazione ormonale e quant'altro, anche ai cardiologici, c'era prima il professore. E quindi quello che noi possiamo dare come, tra virgolette, garanzia è quel 80-90% del risultato permanente, visto che poi ci sono delle papille generazioni dei peletti, quelli che ogni tanto, visto che siamo vivi, il sistema ormonale funziona, grazie a Dio, ogni tanto possono esserci. Però questo è il risultato che possiamo contare in modo permanente.